Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di contafili. Il termine contafili risale a oltre cent'anni fa ed era utilizzato nel settore tessile. È utilizzato ancora oggi nel settore tessile il contafili. Serve per contare i fili in un tessuto. Esistono contafili con lenti in vetro, contafili con lenti in plastica, contafili con strutture in metallo e contafili con strutture in plastica. Spesso sulla base abbiamo dei reticoli per fare le misurazioni. Esistono anche dei contafili con luce. Il termine corretto per indicare questa lente è contafili, però è in uso anche il termine lentino, specialmente nel settore grafico. È utilizzata anche nel settore grafico per osservare stampati. Vediamo un concetto di ottica geometrica controintuitivo. Tante persone pensano che una lente grande ingrandisca tanto. Di un diametro elevato ingrandisca molto. Invece è l'opposto. Qui vediamo tre contafili. Il più piccolo ingrandisce di più rispetto agli altri due. La lente più è piccola più ingrandisce. Quindi vediamo tre contafili e si va da un ingrandimento minore ad uno maggiore. Qui abbiamo una lente in plastica. Vedete questo spot piccolino è stampato. Questa invece è una lente in vetro e questo piccolo contafili ingrandisce molto. Qui stiamo ingrandendo 10 per quello piccolo. Esistono contafili con luce. L'utilizzo del contafili è molto ampio. Quindi non solo nel settore tessile, in quello grafico, ma tutte le volte che abbiamo bisogno di una lente in ingrandimento facile da portare in giro perché si piega, è molto compatta e che può arrivare ad elevati ingrandimenti. Il contafili è la lente che può fare all'occasione. Può andare molto bene. Qui vediamo un contafili con luce. Qui un contafili con una base in vetro con un reticolo per fare delle misurazioni. Quindi nella scelta di una lente ricordiamoci che se vogliamo un elevato ingrandimento dobbiamo scegliere una lente piccola. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Il video continua ancora per un po' e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie, a presto. Grazie. 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 Grazie.